Musica Ben trovati gentili telespettatori ad un nuovo appuntamento con l'informazione dalle marche di UTVRS. Apriamo con un grave fatto di cronaca. Una coppia di origine moldava è stata trovata morta nella tarda serata di ieri in una zona periferica di Pesero, in via Chiaramonti a Santa Veneranda. Il cadavere dell'uomo, 47 anni, è stato rinvenuto, impiccato in un capanno che funge da garage per attrezzi agricoli, mentre la moglie, da cui si era separato da un anno, è stata trovata senza vita nel bagno con un asciugamano intorno al collo, tanto da far pensare ad un possibile strangolamento. A far scoprire i corpi sono state le due figlie della coppia di 23 e 14 anni che non riuscivano a contattare telefonicamente la madre. Sul caso indagano i carabinieri. L'ipotesi prevalente al momento è quella dell'omicidio-suicidio. Un artigiano di macerata, Alberto Ferri, 59 anni, residente a Piediripa, ha perso la vita ieri mattina a Colbucaro di Corridonia. Era in bicicletta attorno alle 8 e 30 quando, all'altezza del ristorante Apollo 17, ha accusato un malore. Ha avvertito il compagno con il quale era uscito e si è accasciato a terra. Immediata da parte di quanti hanno assistito alla scena la chiamata ai soccorsi, ma per l'uomo, colpito presumibilmente da un infarto, non c'è stato nulla da fare. Sul posto, oltre al personale del 118, anche i carabinieri per i dovuti rilievi. C'è stato allarme nella zona di Porto Sant'Elpidio per una chiazza in mare. Vediamo i dettagli in questo servizio. Intorno alle 13.30 di oggi un'enorme chiazza è comparsa in mezzo all'acqua nel tratto del lungomare sud di Porto Sant'Elpidio, all'altezza dello chalet Itai Bistro, ai confini con l'Ideo di Fermo. I bagnini di salvataggio sono entrati subito in azione, facendo uscire tutti i bagnanti, almeno per precauzione, dall'acqua. Una signora che si trovava in spiaggia ha visto due grosse navi che si sono fermate a largo della costa. La macchia allora potrebbe essere proprio il frutto di uno scarico delle imbarcazioni avvistate. Nel frattempo i bagnini hanno allertato la capitaneria di Porto per fare chiarezza e sincerarsi sulla balneabilità del litorale in un periodo di estremo affollamento della costa. E da proposito di quanto visto nel servizio si attendono le analisi sui campioni raccolti, potrebbe infatti anche trattarsi di una semplice fioritura algale. A tranquillizzare un po' tutti è arrivato un post del sindaco di Porto Sant'Elpidio, Franche Lucci, secondo cui non c'è nessun motivo per allarmarsi, anche se ci sono state numerose telefonate di cittadini e di concessionari di stabilimenti balneari. E riprendiamo con la cronaca. I vigili del fuoco sono intervenuti oggi attorno alle 9.30 a Chiaravalle per l'incendio di un capanno in ferro ad uso agricolo. Sul posto due squadre dei pompieri provenienti da Iesi e dalla sede centrale di Ancona con a supporto un autobotte che hanno spento l'incendio, che ha coinvolto per lo più materiale legnoso in via precauzionale. Il proprietario è stato assistito dal personale del 118. È sempre ricoverato in gravissime condizioni il sedicenne originario di Loreto che ha rischiato di annegare nell'acqua bassa davanti alla spiaggia di Porto San Giorgio. Secondo le prime informazioni non si sarebbe più rialzato mentre faceva una gara di apnea con un amico. Dopo i primi soccorsi sul posto sono intervenuti un'ambulanza e l'elisoccorso che poi ha trasportato il ragazzo intubato all'ospedale di Fermo. È caccia la banda che l'altra notte ha saltato con del materiale esplosivo il Bancomat dell'ufficio postale di Marotta. È successo a cavallo tra il sabato e la domenica. I gnoti hanno fatto saltare lo sportello di Via Genova intorno alle 2 sulle tracce dei malviventi carabinieri della stazione di Marotta e del nord della Compagnia di Fano sarebbero state almeno due i malviventi che hanno agito con il volto coperto da un passamontagna utilizzando una tecnica che prevede l'impiego di un parallelepipedo in ferro riempito di polvere pirica da quantificare il bottino che comunque dovrebbe aggirarsi attorno ai 10.000 euro. Nei pressi dell'imboccatura del porto di Ancona un'imbarcazione da Di Porto è stata divorata oggi dalle fiamme le cause debbono ancora essere accertate. Sul posto i vigili del fuochi, rimorchiatori e due vedette della Capitaneria di Porto queste ultime hanno provveduto a portare in salvo tutti i passeggeri i quali risultano fuori pericolo. È stato inaugurato nei giorni scorsi a Fanni il nuovo ponte ciclopedonale sull'Arzilla in corrispondenza del Lido Cittadino sostituisce la vecchia struttura in cemento armato realizzata dalla regione negli anni 80 ormai faticente ed in avanzato stato di degrado strutturale è stata sostituita da un moderno impalcato reticolare, snello e caratterizzato da pesi ridotti rispetto al precedente. Al taglio del nastro anche il presidente della regione, Luca Ceriscioli. Sentiamo. Conosco molto bene la zona perché il proseguimento e il collegamento della ciclabilungo l'Adriatico se vogliamo un pezzo della ciclovia adriatica prima c'era un ponticello pedonale abbastanza scomodo che ha avuto dei problemi importanti l'ex genio civile regionale in un arco di tempo che è sempre troppo per tutti quanti da magari gli operatori di spiaggia ai cittadini ma devo dire in tempi molto rapidi è riuscito a non solo sistemare le cose perché non è stato messo a posto un ponticello diciamo anche scomodo ma a fare una delle opere più belle come ponte ciclo pedonale che devo dire che io abbia visto quindi è riuscito a sostituire un ponte in un ponte più largo più adatto alla funzione che deve avere sicuro in termini di strutture e anche esteticamente molto bello in riva al mare alla foce del Torrente Arzilla è un elemento di grande qualità che qualifica quell'area che può inorgogliere tutti quelli che ci hanno lavorato per me è l'occasione ovviamente per ringraziarli hanno fatto non solo un'opera utile ma anche un'opera bella di sensibilità nel contesto ambientale in cui è stata collocata è stata accolta da nove minuti di applausi la prima della Semiramide che ha inaugurato a Pesaro la quarantesima edizione del Rossini Opera Festival val con nuove azioni anche durante l'esecuzione soprattutto per il direttore d'orchestra Michele Mariotti e per i cantanti non sono mancati i fischi invece per il regista Graham Vick da parte soprattutto dei tradizionalisti che non hanno approvato la sovrabbondanza di simboli nell'allestimento oggi la prima di Demetrio e Polibio domani in programma l'equivoco stravagante suggestivo, coinvolgente di altissimo livello si può definire così lo spettacolo che a Recanati ha chiuso l'edizione 2019 di Lunaria protagonista Noa l'artista israeliana di origini yemenite che ha incantato il pubblico di piazza Giacomo Leopardi vediamo con la sua voce unica al mondo Noa in un inno al dialogo tra religione e cultura ha incantato giovedì sera il grande pubblico di Lunaria la rassegna estiva di musicultura Recanati gremita di persone in piazza Giacomo Leopardi accompagnata dalla sua band di grandi musicisti l'artista israeliana ha spaziato tra i successi mondiali della sua ricca e intensa discografia in varie lingue l'ebraica, la iemenita, l'inglese il napoletano fino a fondersi in un unico idioma la poesia è una forma di salvezza ed una fonte di grande ispirazione per la vita ed è un grande piacere per me essere qui nella città di Leopardi ha dichiarato il sindaco di Recanati Antonio Bravi ha omaggiato Noa per la sua sensibilità umana ed artistica e per i valori di pace e giustizia che promuove nel mondo con la moneta di 5 euro coniata dalla zecca recante le belle immagini dei luoghi leopardiani noi viviamo in questi tempi molto molto difficile importante critica per l'istoria della umanità ogni persona ha una funzione importante per fare qualcosa di buono naturalmente anche noi gli artisti molto importante perché l'arte è un punto di ispirazione per collegare da gente per toccare le emozioni più profonde che c'è ma l'arte non può fare miracoli l'artista non può funzionare solo in vacuum no dobbiamo lavorare insieme tutti noi il pubblico gli artisti ma anche tutta la società per capire che noi dobbiamo lavorare insieme per salvere la umanità non è una esagerazione no questo è un momento di verità un momento di verità un momento di verità siamo allo sport con l'avvio della stagione agonistica per quanto riguarda il calcio sicuramente positive le impressioni d'estate dall'ascoli che sabato ha eliminato in Coppa Italia la giovane Pro Vercelli imponendosi per 5 a 1 nel prossimo weekend i bianconeri con data ed orario ancora da definire affronteranno in casa il Trapani che ieri ha battuto per 3 a 1 il Piacenza ricordiamo poi che saranno sempre i siciliani gli avversari del match di esordi in campionato dal Del Duca previsto per sabato 24 agosto alle ore 21 in Serie C non ha sfigurato tutto sommato il giovanissimo Fano opposto al rafforzato teramo di Mister Tedino i Granata hanno ceduto 2 a 0 al Mancini nel pomeriggio funestato dall'incidente ad un tifoso che si è visto tranciare di netto un dito mentre a metà del primo tempo era attaccato alla ringhiera di protezione che separa la curva al terreno di gioco colpa probabilmente della fede che portava all'anulare sinistro esce battuta anche la Vispesero che parte bene a Cesena si porta in vantaggio con una rete di Gennari ma subisce poi il ritorno dei romagnoli che si impongono 3 a 1 con i gol di Brignani Capellini e Russini nella prima uscita ufficiale del neopresidente Mauro Bosco ed ora cambiamo argomento e parliamo di motociclismo con la bella storia di Romano Fenati che ieri si è imposto nella gara di Moto3 al Gran Premio d'Austria una sorta di rinascita dopo il fattaccio di 11 mesi fa a Misano Adriatico che sembrava avergli compromesso definitivamente la carriera vediamo Romano Fenati è tornato lo sport che ama gli ha concesso una seconda opportunità ed il pilota scolano la sta sfruttando come meglio non potrebbe intendiamoci il fattaccio del Gran Premio di San Marino di quasi un anno fa resta e sarà comunque una macchia difficilmente cancellabile nella sua carriera ma il ragazzo in fondo appena 23 anni ha reagito da campione preparando in silenzio la sua rivincita che si è concretizzata ieri nell'emozionante corsa austriaca a Fenati forse troppo presto sono state attribuite le stimmate del fuoriclasse quando esordì in Moto3 nel 2012 e piazzò subito un secondo posto in Qatar ed una vittoria a Erezze della Frontera i paragoni con i grandi si sprecarono in primis quello inevitabile con l'ingombrante Valentino Rossi tanto che entrò nel team del Pesarese prima della follia autentica di Misano dove pinzò il connazionale Manzi un gesto assurdo che gli costò due gare disqualifiche ed il licenziamento oltre alla condanna unanime del mondo sportivo il suo team invece gli ha ridato fiducia forse da ieri per Romano Fenati è iniziata una nuova vita sportiva e la sua indubbia classe avrà di nuovo modo di emergere Siamo al beach volley Paolo Ficosecco insieme a Paolo Ingrosso nel maschile Sara Breidenbach e Jessica Allegretti nel femminile si sono giudicati a Civitanova il king and queen of the beach una competizione in parte guastata dall'infortunio o corsi in finale all'italo-brasiliano 31enne Matteo Ingrosso che nel finale di primo set ha chiesto un time out medico al termine del quale gli è stato diagnosticato un significativo calo di pressione che gli ha impedito poi di proseguire grande comunque il successo di pubblico la Iplex Arena di Civitanova era gremita in ogni ordine di posti e passiamo ora alle attese e previsioni meteo per martedì 13 agosto Il tempo sull'Italia tende a migliorare lentamente sotto la spinta dell'alta pressione africana assenza di fenomeni instabili Spostiamoci ora sulle regioni centrali qui il sole splenderà sulla Toscana sull'Umbria sull'Abruzzo e sul Molise una maggiore presenza di nubi ma senza piogge interesserà il nord della Sardegna e il medio versante adriatico concludiamo dando uno sguardo alle temperature previste di notte i valori toccheranno punte minime di 16 gradi e non supereranno i 26 gradi su tutta l'Italia durante il giorno attendiamo invece fino a 35 gradi al nord 37 al centro e punte di 40 gradi al sud un'ultima notizia complimenti all'epicar San Benedettese che vince il terzo scudetto della sua storia nel beach soccer i rosso-blu nella finale disputata a Catania hanno battuto per 6 a 5 il viareggio con la rete decisiva di Jordan Soares quando mancava meno di un minuto alla fine tutti aspettavano il tempo supplementare una a San Benedettese che nella quarta finale scudetto in cinque anni conquista l'ottavo trofeo dal 2013 e vince proprio in Sicilia dove si era resa in finale lo scorso anno contro i padroni di casa un dominio insomma che si consolida quello della compagine guidata dal tecnico Oliviero Di Lorenzo e con questo è tutto per il nostro telegiornale grazie per la cortesa attenzione a domani